Oggi è il 6 luglio 2016, siamo qui nella mia galleria, io e l'architetto Franco Gai. L'architetto Franco Gai lo conosco dai primi anni Ottanta ed era funzionario e si occupava dei progetti speciali del San Paolo. Questi progetti speciali di che cosa si occupavano? No, cioè è un'etichetta che avevo io, cioè dipendevo praticamente dalla direzione generale, voglio dire, cosa saltava a loro dalla filiale appunto di San Maurizio Canavese a Londra, veniva etichettato progetti speciali, compresso il loro proprio ufficio. Infatti tutta la serie dei presidenti ha voluto cambiare qualcosa in ufficio eccetera. In questo gioco entrava molto forte i quadri, voglio dire, il redare questi spazi. Quindi l'architetto Franco Gai ogni tanto veniva da me in studio e prendeva un po' di opere grafiche. Io all'epoca facevo la gente per importanti editori di Milano, quindi avevo una scelta. a un certo punto mi chiede, ma perché non fai Emilio Vedova? Io l'ha sognato, perché diciamo era un nome importantissimo. Dico sì, io potrei anche farlo, ma se vuole Vedova. L'istituto mi garantisce l'acquisizione di un certo numero di coppia, lui disse certo. anche io prendo il telefono, chiamo lo studio di Vedova a Venezia, mi presento e dico chi sono e Vedova accetta. Vedova accetta perché in quell'anno si inaugurava il museo di Rivoli e con una mostra di Vedova. Vedova è sempre stato molto restio a dare dei lavori perché era rimasto bruciato dall'esperienza che aveva fatto in Spagna con la poligrafa, nel senso che lui attivista politico eccetera eccetera, aveva regalato delle grafiche per non so bene quale causa e in morale della favola la poligrafa poi aveva svenduto questi lavori. Quindi Vedova non voleva che succedesse questo e mi fece firmare un foglio dove praticamente io dovevo mantenere certi prezzi. Lui era molto rigoroso su quello. Quindi accettò di darmi questa tiratura perché non è che l'ho prodotto io ma questa opera grafica è stata stampata nello studio di Vedova. Ti ricordi quanto pagò l'istituto queste opere? Assolutamente no. Assolutamente no. Io assolutamente sì. L'istituto la pagò 330 mila lire a coppia che fanno oggi 165 euro. Allora io di queste grafiche ne ho ancora due di cui una è in vendita, ha un'asta, un portale e l'hanno messa in vendita a 4 mila euro. Quindi da 165 euro a 4 mila euro l'istituto, la banca ha fatto un bellissimo utile. Tu ti ricordi quali altri artisti io ti fornivo? Barovero, Nespolo, Nespolo, Veronesi, Munari. Munari. Cioè il gioco però poteva essere, siamo in istituto in quel momento aveva uno sviluppo fantastico. Passando appunto da APIC, cioè banca di interesse nazionale a comunque internazionale, il gioco poteva essere utilizzare i grandi nomi della cultura figurativa. Vedova era uno di questi. Forse si sarebbe potuto utilizzare altri di questi grandi vecchi, tipo Burri. Però è anche vero che l'istituto bancario era comunque l'istituto bancario e quindi l'arte interessava fino a un certo punto. Era un po' il problema dell'accogliere il cliente, di presentare un ufficio, uno spazio che avesse qualche senso. Credo che oggi sia del tutto passato questo discorso e il grattacielo credo che non abbia grandi opere d'arte, però ha avuto un successo formidabile e i tempi sono questi. Quindi mi stai dicendo che l'istituto bancario San Paolo avrebbe potuto, collaborando con me, produrre gli artisti più importanti che c'erano. E perché non l'hanno fatto? Sarebbe stato per me sicuramente importantissimo, per l'istituto anche perché avrebbe acquisito del materiale di primissima scelta, di nomi grandissimi, che hanno fatto la storia dell'arte italiana. Però è andata così, è peccato. Diciamo che occuparsi di un'attività artistica professionale ci va all'impegno di tutti quanti, dove l'artista è sicuramente importante, il gallerista è importante, l'editore è importante e il cliente è anche importante, perché a quel punto lì si chiude il cerchio e si può produrre e fare al meglio. Ma la vita è andata così. Io sono già contento di aver prodotto Vedova perché in realtà mi ha aperto le porte presso tutti gli altri artisti che ho contattato dopo, ovvero chi ha prodotto Vedova in Italia. e io penso di essere uno dei pochi, grande onore. Sì, 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 certamente, può servire da passepartout. Passepartout, che non capivano come io avessi potuto produrlo. Però è andata così. Bene, Franco, io ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me durante la vita, perché siamo amici da secoli. Questa amicizia continua, è sempre bello vederti e ti ringrazio. Grazie. Grazie.